Partiamo, come ho detto prima, con la storia di Pinocchio, il gatto e le volpe, no? Il gatto e le volpe dicono a Pinocchio di depositare tre monete d'oro per poi trovare di più. Nonostante tutto che la gente ogni giorno vede che succedono fatti simili di fregatura e resto, purtroppo questi truffatori riescono ancora a trovare gente che ci cascano ancora, come è successo nel 2014 con gli scordi di Verreto Banca e il Popolare di Vicenza, che quello è stato un caso un po' particolare perché i truffatori erano proprio quelli che erano all'interno della banca e già lì secondo me era un po' difficile da capire se le cose erano giuste o sbagliate, però col tempo si è dimostrato che proprio con loro che lavorano all'interno, con una bella organizzazione all'interno, hanno fatto sì che le persone venivano truffate e questi di solito sono gli anziani o le persone che con il percorso della loro vita riescono a risparmiare del denaro e lo investono con la speranza di dire voglio migliorare il mio futuro quando sono l'anziano perché magari la mia vecchiaia mi comporterà a spendere più soldi e così se io faccio un investimento a lungo termine posso pagarmi o magari con interessi vi dicendo le spede dell'energia elettrica e del gas. Però io dico una cosa, purtroppo siccome viviamo una situazione economica che non è proprio fiorente come una volta, tutti quelli che promettono adesso Mario e Monti non è da crederci perché KIT promette tantissimo, si sa benissimo che è una cosa assurda perché se noi guardiamo anche qualsiasi banca che andiamo non vale più la pena tenere i soldi nel conto corrente perché se tu hai anche 10 mila Euro sul conto corrente fermo tu a fine anno ti trovi con meno soldi di quelli che hai depolitato, vuol dire che le spese sono superiori rispetto a quelle che guadagni. Nel caso mio cosa faccio io? Mi affido alla banca, ho la mia persona di fiducia e dico guarda c'ho 5 mila Euro, c'ho 10 mila Euro, fammi dei fondi differenziati, non tutti quanti nello stesso sistema, mi fai differenziati così magari se uno scende uno sale più o meno si ha un piccolo guadagno. Non si guadagna molto adesso però io penso che come diceva mio papà la goccia continua, prima riempie il secchio, la tempesta porta via tutto, dunque non è inutile che la gente sia ancora di fissata a dire guarda questo mi ha proposto di fare questo investimento, in 5-10 anni prendo il 3, il 4, il 5%, no, queste qua sono truffe perché al giorno d'oggi nessuno regala più niente e dobbiamo prendere quello che ci offrono le banche perché sono loro che capiscono l'andamento del mercato, sono loro che sanno qual è l'investimento che fa più al caso nostro, è questo che voglio dire. Poi posso dire una cosa del bonus? Per quanto riguarda il bonus, è vero che il bonus 110 aiutava a dare lavoro alle imprese ma soprattutto anche di ristrutturare la casa di molte persone, però questo era più facile ottenere per quelli che avevano la casa singola, perché ad esempio io che vivo in un condominio, questa operazione è molto più difficile da effettuare perché deve esserci un accordo che andava dal 50 al 70-60% dei condomini che erano all'interno, però alcune aziende volevano che ci fosse la maggioranza assoluta, però io dico una cosa, ok ristrutturare la casa, però si sa benissimo che molte aziende, alcune aziende ci hanno marciato sopra, si sono improvvisate professionisti, hanno caricato imprese, hanno fatto lavori, non lavori e ci hanno guadagnato, conosco delle imprese, ti ho sentito parlare delle imprese che hanno fatto lavoro, hanno ultimato, però non hanno ancora riscosso i soldi perché le banche devono ancora dare alle imprese, quelli del credito che loro sono accapparate. È giusto dire che adesso con il bonus molte aziende perdono il lavoro se non si fa più questo bonus 110, ma è anche vero che molte aziende devono capire che se si continua con questo sistema del bonus 110 c'è anche il rischio che non prendano proprio i soldi e quelli che vogliono fare anche questo rinnovamento della propria abitazione devono capire che quando fanno il contratto c'è scritto che l'importo della fattura è a zero, quindi non si paga nulla, ma è anche vero che lungo andare potrebbero venire fatti dei controlli all'interno dell'abitazione e potrebbero dire, se vogliono, guarda che qua c'è un errore e a te non ti aspetta questo bonus, chi è che paga dopo? Lo pagherà il privato, il cittadino? Dunque siamo sempre al punto di partenza, meglio toglierlo adesso che dopo creare superiori danni. Grazie Lappo, ha fatto cenno alla Banca Popolare.